Sono Alessia Ricceri Sono Cosimo Soderi, sono Marketing Manager aziendale anche se l'azienda è piccola quindi copriamo un po' tutti i ruoli e facciamo tutto ciò che è necessario Il mio ruolo aziendale è appunto di Asport Manager Il nostro motto è da sempre Passion for Taste quindi nel nostro lavoro quotidiano cerchiamo veramente di investire le energie giornaliere nella realizzazione appunto di vini che vadino ad esprimere al meglio le peculiarità e le unicità dei nostri territori quindi Castellina e Pansano Il mio obiettivo quando vado all'estero non è solo quello di parlare della mia azienda ma di parlare del territorio, di parlare della nostra cultura, del nostro modo di vivere e vedo anche nelle persone che visitiamo che ciò che gli interessa veramente sapere quindi non si va a vendere un vino ma a raccontare una cultura, raccontare un territorio Diciamo che siamo abbastanza unici nel genere dei vini del Chianti Classico in quanto appunto come vi dicevo prima noi rappresentiamo ben due Uga quindi Castellina e Pansano quindi quando uno va a prendere una bottiglia di vini di Galliole sa che appunto attraverso questi vini potrà scoprire ben due territori diversi della nostra regione vitivinicola Grazie a tutti